Barbie, buon ascolto e buona visione. Confesso che quando ho visto finalmente Barbie ho gridato al capolavoro, mi ha davvero entusiasmata. Sono rimasta senza parole per quasi 103 secondi. Che inizio folgorante. L'alba della donna. Le bambine primordiali, stranamente tutte occhialute nonostante non abbiano di certo libri da studiare sui quali rovinarsi la vista, giocano con i loro cicciobelli bua ma sono immusolite da paura perché in realtà vengono addestrate al loro destino di future madri che a quanto pare significherà solo accudire i figli, stirare, preparare la pappa, estenderne i vestitini. Insomma essere le loro colf come direbbe la Cortellesi. Dopo aver vissuto per eoni in questa triste condizione di madre e basta, con il sottofondo la musichina inconfondibile nella parte della monolita industriale compare la Barbie primigenia. L'inviata della volontà superiore che permetterà alle mini donne di compiere il clamoroso salto evolutivo e il gesto eclatante del lancio del bambolotto lacrimogeno contro il patriarcato le condurrà a scoprire il mondo del lavoro della società capitalistica e a diventarne schiavi esattamente come gli uomini avendo sostituito la maternità con il logo. In fondo bastava solo cancellare la lettera finale al logos per distruggere il mondo. Facile. Capite che profondità, caspita, che genio questa regista. O si dice registessa. Chissà cosa ci riserveranno gli altri 112 minuti di questo capolavoro. Mi dispiace per voi che, incuriositi da questa recensione entusiastica, vi sorbirete tutto il frappè rosa fino all'ultima goccia. Ma il film sarà da quel momento in poi un unico, noiosissimo ed imbarazzante spottone aziendale della Mattel, nel quale vedrete cose che non potete nemmeno immaginare. Il vuoto pneumatico femminista in fiamme al largo dei bastioni di Miami Beach e il balenare dei raggi wok nel buio vicino alle porte di Hollywood. Per giunta tutto all'insegna del furto delle altrui opere di ingegno, come vedremo e come abbiamo già visto. Certo che lo dico, adesso lo dico. Ciò che Greta Gerwig ha condensato nei primi due minuti, che poi sono la soglia massima di attenzione dello spettatore odierno, la bustina che ha cacciato nel microonde per preparare il popcorn per gli spettatori, non era altro che la bieca riduzione a momento donna dell'inizio di 2001 di Sena allo spazio. Capolavoro vero di Ciccia, del più grande regista di tutti i tempi, Stanley Kubrick. Sei come vedremo. Barbie, il film, in effetti è come il saccheggio di una videoteca. È perché la Barbie stessa è la storia di un clamoroso furto con destrezza, di cui tra pochissimo vi racconterò la storia. Intanto, giusto per esentarvi dal beverone, nel caso foste intolleranti alla fragola, Barbie Margot Robbie è una Barbie che vive a Barbiland, una città ideale di plastica rosa fucsia copiata furto numero due. Da quella parodia di periferia americana anni 50 con le casette in cerchio, dove vivono prigionieri di un esperimento sociale i protagonisti di Don't Worry Darling, altro momento donna registico uscito nel 2022 e interpretato, neanche a dirlo, da lei, dalla Florence Pugh. A Barbiland, con tanto di Barbie presidenta e Barbie giudicia, vige il bambolarcato e non il matriarcato perché nessuno è più madre, come abbiamo visto, e non possono nemmeno riprodursi. La vita di Barbie è un eterno giorno della marmotta, ogni giorno uguale al precedente e dal successivo, scandito ogni mattina dai ciao Barbie, ciao Barbie, che si scambiano Barbie con le altre Barbie, e i Ken, che sono gli inutili idioti che riempiono gli spazi vuoti tra una Barbie e l'altra di questo casa Barbie, Truman Show, furto numero tre. Ken fa il cascamorto con Barbie che non se lo fila nemmeno di strisce. Per forza, essendo privi di organi riproduttivi, le Barbie e i Ken non hanno alcun motivo per restare la notte l'uno a casa dell'altra. Tutto cambia la mattina in cui a Barbie si appiattiscono improvvisamente i piedi, scopre il primo accenno di cellulite sulla coscia e di conseguenza inizia a fare pensieri di morte. No, non è il long stress da marmotta dei, è la padroncina del mondo reale che sta canalizzando la sua negatività sulla bambolina, dice una Barbie esperta in gestione di crisi. Per cui bisogna andare nel mondo reale e riallinearsi con la padroncina per evitare la catastrofe, ovvero il crollo del mondo perfetto delle donne di plastica che camminano in punta di piedi. Il resto ve lo faccio scorrere in avanti veloce. Si va quindi nel mondo reale a cercare la padroncina che non sta bene, che poi non è una bambina ma una dipendente adulta della Mattel. Ken, una prece per la carriera di Ryan Gosling, mamma mia, Ken che ha seguito di nascosto Barbie, scopre che nel mondo reale comandano gli uomini e vige il patriarcato e la cosa lo esalta al punto che, tornato a Barbieland, tenterà una rivoluzione colorata dei Ken che fallerà miseramente, riportando lui e gli altri bamboli soia alla loro realtà di fancazzisti virati da spiaggia. Le Barbie hanno voluto il potere? Francamente me ne infischio. Arriviamo quindi al sottofinale, quello parareligioso dell'incontro di Barbie con la grande architetta del multiverso, la dea madre sua creatrice demiurga benevola indivisa Chanel e triplo giro di perle da Shuretta ultra borghese ma anche un po' Yoda che la riceve in cucina come l'oracolo di Matrix. Furto numero 4. Cos'è che tormenta Barbie in fondo? Sarà mica diventare da burattina di plastica una ragazzina per bene o me direbbe o lodi? E difatti, se l'inizio era l'alba dell'uomo di di sé nello spazio, il finale è Pinocchio dai. Furto numero 5. Ma se diventerai una donna vera morirai, l'ammonisce la creatrice. Non importa, meglio che vivere a Barbieland evidentemente. Non aspettatevi mica Roy Beatty, il replicante di Blade Runner che supplica Tyrell, il suo creatore, voglio più vita padre. No, qui al massimo siamo al cambio il mio pacco e vado avanti. Cosa si può dire in definitiva sul senso di questo film? La tragedia del femminismo è che pretende di poter creare qualcosa di nuovo solo distruggendo la cultura universale preesistente e finisce per imporre nient'altro che la sua patetica parodia. Questa terribile cultura patriarcale millenaria alla fine ha fornito non solo il 98% degli spunti creativi di questo film, ma anche gli strumenti per interpretarli. Abbiamo assistito insomma alla partita tra ex calciatori cinquantenni con pancette tutti i menischi fuori uso della squadra cultura patriarcale e la rampante nazionale di calcio neocultura femminista. E gli uomini, dopo aver segnato un gol a freddo al primo minuto a porta vuota, hanno seppellito le sfidanti con la classica fagiolata del 12 a 0. Sì, ma non ci hai spiegato la faccenda della bambola Barbie che nasce da un furto? Eccomi. Guardate queste due bamboline. Sembrano due Barbie, ma non lo sono. O meglio, una non lo è. Questa è Bild Lilly. La bambola ispirata al personaggio di un fumetto molto popolare negli anni cinquanta disegnato da Reinhard Boyten e pubblicato sul giornale tedesco Bild, una striscia per adulti con una protagonista molto sexy. Lilly era una ragazza molto emancipata per i tempi che nelle sue storie diciamo viveva in pratica alle spalle di uomini danarosi. Era anche molto magra rispetto al modello femminile dominante allora della maggiorata. La bambola prodotta dalla Greiner Houser a partire dal 12 agosto 1955, disponibile in due taglie, grande e piccola, e corredata di un guardaroba all'ultima moda, era venduta nelle edicole. È come se qualcuno da noi avesse commercializzato una bambola con le fattezze della Valentina di Guido Krepax. Ruth Handler, nata Moskowitz, era la moglie del cofondatore della Mattel, un'altra delle leggendari aziende nate nel garage che aveva iniziato costruendo e vendendo case per bambole. Nel 1956, durante un viaggio in Europa, Ruth vede Lilly e ha la grande intuizione. Ne compra qualche esemplare, dice da regalare a mia figlia e nel 1959 esce sul mercato dei giocattoli Barbie che è praticamente identica, identica a Lilly. Ne nacque una disputa legale che fu momentaneamente appianata nel 64 con l'acquisto da parte di Mattel dei diritti su Lilly, con la conseguente cessazione definitiva della produzione della bambolina tedesca. Negli anni 2000, la Greiner Hennhauser, ormai fallita da tempo, accusò la Mattel di aver fraudolentemente sottostimato le vendite di esemplari di Barbie effettuate fino al momento dell'accessione dei suoi diritti. Insomma, si accorse di essere stata fregata da dei professionisti, non c'è dubbio. Altro che demiurga creatrice e benefattricio dell'umanità, c'è il confusa di luce. Concludendo, Barbie è stata davvero il mezzo con il quale la donna si è emancipata? Come pomposamente reclama la Mattel, produttrice di questo automarchettone? O ci saremmo comunque rovinate lo stesso con altri mezzi? Del resto, come si spiega il successo incrollabile di Cicciobello, orgoglio italiano dal 1962, bambolotto bambino per definizione, con il quale le bambine di tutto il mondo continuano a giocare alle mammine senza timore di abituarsi a diventare un giorno madri di bambini. Veri? Forse tra il mondo futile, assessuato e sterile di Barbie che fa venire i pensieri di morte e la realtà dove domina la vita vince ancora la seconda? Credo proprio di sì. Ciao a tutti, alla prossima!